La definirei ottima, sono stato seguito dal primo giorno che ho messo piede in azienda Timorante e formativa È stata molto interessante su tutto perché era un settore completamente nuovo Significa entrare nella migliore università d'Italia per la formazione dei nuovi agenti immobiliari Non ricevi solo formazione da un punto di vista produttivo ma ricevi formazione anche da un punto di vista caratteriale Mi ha portato ad avere fiducia Eppi proprio l'impressione di lavorare con persone, con professionisti a cui interessava la mia formazione Interessava che io riuscissi Il lavoro mi sono trovato subito a mio agio perché Toscano e coloro che lavorano per Toscano Mi hanno messo nelle migliori condizioni di approcciarmi al meglio a questo lavoro I dubbi sono quelli che a ogni ragazzo di vent'anni che si imbatte in un'attività lavorativa Il dubbio fondamentale era quello del riscontro economico che non sapevo se potesse essere quello che stavo cercando L'immobiliare mi ha sempre affascinato anche se non sapevo cosa si dovesse fare Grandi dubbi quindi diciamo che non ne avevo Non ho mai avuto dubbi né prima di candidarmi né nel periodo successivo I dubbi possono nascere nel confrontarti con i colleghi che hanno più esperienza di te I miei erano, sarò in grado di fare questa attività Mi chiedevo, riuscirò a trovare gli appartamenti da vendere? Non vi nascondo che effettivamente poi ho fugato ogni tipo di dubbio dal momento che ho iniziato a vendere la prima casa È stato quando durante il mio primo colloquio con il mio sales manager ho deciso che sarei voluto diventare come lui Quando insieme al responsabile abbiamo chiuso la mia prima trattativa Ho deciso di iniziare a lavorare in Toscano nel momento in cui ho finito la prima settimana Avevo degli obiettivi e ho pensato il lavoro può essere il mezzo perfetto per raggiungerli Non fate altro che unirvi a noi e magari cercare di dare il massimo perché insieme potremo avere dei grandi risultati Per me è stato semplice decidere perché in realtà lo desideravo già da prima Il momento in cui ho deciso di cominciare in Toscano è stato subito dopo l'incontro con il sales manager Quel giorno capì che l'azienda era il posto giusto dove cominciare a svolgere queste attività Mi son detto, uscendo dal primo colloquio, se mi selezionano, se vengo selezionato, io inizio in questa azienda Grazie a tutti!